John Borno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Oggi torno a parlarvi di Alexander Kolarov Perché torno a parlarvi di Kolarov? Allora, mettiamo in chiaro delle cose Innanzitutto non è vero che in pochissimi hanno fischiato Kolarov Praticamente tutto il settore ospite ha fischiato Kolarov Durante Chiavoruma Perché c'è Stavo e quindi l'ho visto Ma poi ragazzi sentiva, cioè hanno insultato Kolarov tutto il tempo E io ho detto di essere d'accordo Alcuni mi hanno insultato, vi spiego un attimo Come la penso, vi spiego un attimo il mio discorso Spero che voi capiate, poi insomma Mi dicete la vostra, ma anche se comunque non siete d'accordo Spero capiate il discorso che sto facendo e poi mi fate sapere Se secondo voi ho ragione Se secondo voi ho torto e il motivo Allora, partiamo da un presupposto importante Io non penso che quello fatto da Kolarov sia un Gesto di scusami Non lo faccio più A parte sembro Jamie Tights, scusami non lo faccio più Non giocherò più male Vi voglio bene, vi chiedo scusa Non era questo ragazzi, perché non era questo? Innanzitutto perché l'ha fatto con una faccia da cazzo Mi dispiace dirlo ma l'ha fatto proprio Espressamente con una faccia da cazzo Ma al di là di questo, e poi la faccia può essere fraintendibile La Roma continua a fischiarlo Continua a fischiarlo Tutti i tifosi continuano a fischiarlo E cosa succede? Succede che lui, non è che magari viene sotto la cupa e fa E fa così, fa Fermi regà, non avete capito niente Ve lo chiede scusa Cioè non è che dice Ma rifà il gesto, scusa che hai mani Che blocca i tifosi No regà, rifà un'altra volta quel gesto Se rinchina un'altra volta E allora c'è qualcosa che non va Perché se tu ti inchini Ok? Noi lo prendiamo con un insulto e ti fischiamo E tu ti rinchini Mi sta più a per culo, penso Tra l'altro c'è da fuori una cosa Stavo leggendo su un giornale Che lui era in rottura con la società Lazio tempo fa E quando segnò in quel periodo Andò sotto dove erano i dirigenti della Lazio E fece quell'inchino Quindi sinceramente mi sembra alquanto strano Pensare come se lui abbia fatto per chiedere scusa ai tifosi della Roma Visto che l'aveva già fatto in malo modo Detto questo Modo o non modo Perché poi molti dicono Vabbè sicca ma comunque ha fatto sette gol Ragazzi il discorso è questo Io da tifoso della Roma Spero quantomeno Quanto meno che i miei giocatori mi rispettino Cioè io non Non dico tanto Io magari Magari non gliene frega nemmeno niente Ma perché è così Loro guadagnano i soldi Ma che gliene deve fregare Però diciamo Arriva un punto In cui io ti do da mangiare Perché vado allo stadio Perché Magari prendo il gadget della Roma Perché compro la tua maglietta E quando ti incontro Quanto meno Quando ti dico Dai dai concentrato Preferirei non sentire dire Cioè quando ti dico Dai dai svegliatevi Svegliatevi Perché comunque giustamente Svegliatevi Cioè hai preso sette gol da Fiorentina Tre del secondo tempo D'Atalanta Hai fatto rimontare Dal chiave all'andata Hai perso Corbologna Hai perso la spalla Cioè dovresti solamente Sta zitto E non giro magari con le airpods Così non senti neanche quello che te dicono Proprio chiuso In te stesso Interiormente Invece addirittura ti dicono Svegliatevi Giustamente aggiungerei E tu gli rispondi Sveglia tu madre Stai zitto Cioè non ha senso Non ha senso E non è la prima volta Che Colorov fa una cosa del genere Perché prima Prima i tivosi non capiscono un cazzo Che poi effettivamente Cioè nel senso io non ho fatto nessun video Né quando ha detto una cosa E quando ha detto l'altra Voi non trovate nessun mio video In cui io parlo di Colorov Che dice I tivosi non capiscono un cazzo Perché effettivamente Molti tivosi ragazzi Non capiscono quello che gira intorno al calcio Ok Ma è giusto così Tifano Ma quello ragazzi È il loro mestiere Però c'è il loro lavoro Non è il loro mestiere Cioè è quello che dovrebbero fare Quello è il loro compito Però questo non significa Che tu debba Dire I tivosi non capiscono un cazzo Zitta tu matri Poi vai in campo E ne prendi sette dalla Fiorentina E allora non va bene Boh comunque fatemi sapere Un commento qua sotto Iscrivetevi Mi raccomando al canale Se ancora non l'avete fatto Se vi è piaciuto Vi lascerò un mi piace In caso di un dislike Grazie per aver visto questo video Buonasera E noi come sempre Ci vediamo ad un prossimo video